Un buongiorno cari amici di Xtreme Hardware, qualche mese fa abbiamo pubblicato la recensione e il video unboxing di un NAS prodotto da Acunap, parlo del Silent NAS HS210, il NAS sicuramente più bello ed elegante che abbiamo recensito come redazione di Xtreme Hardware.com, un NAS che appunto aveva un bellissimo aspetto estetico però gli mancava forse qualcosina, bene Acunap rilancia, rilancia lo fa con un nuovo modello sempre della famiglia Silent NAS e parlo dell'HS251, è un modello che col fratello minore spartisce solamente l'aspetto estetico, il bellissimo aspetto estetico, infatti parliamo di differenze piuttosto marcate, nell'HS251 è presente un processore Intel Celeron Dual Core operante alla frequenza di 2,41 GHz, 1 GB di RAM contro il processore single core Marvel a 1.6 GHz e 512 MB di RAM del fratello minore HS210. Parliamo di un prodotto che si posiziona in un'altra fascia di prezzo, infatti l'HS210 costava circa 247-250 euro online, mentre per l'HS251 parliamo di un prezzo che sfiora i 520 euro. Come mai tanta differenza a livello di prezzo e di componentistica hardware? Bene, andiamo a vederlo insieme e scopriamo come mai di queste differenze. Bene, andiamo a vedere cosa troviamo all'interno della confezione del QNAP HS251. Come prima cosa vi mostriamo questi manuali che abbiamo trovato all'interno della confezione, manuali che non erano presenti all'interno della confezione dell'HS210 né all'interno degli altri NAS che abbiamo recensito sempre prodotti da QNAP. Un manuale che è una guida praticamente al sistema operativo UTS4. Possiamo trovare all'interno la spiegazione delle varie funzioni e dei vari menu che troviamo all'interno del sistema operativo. Potete trovare anche una guida sul nostro canale YouTube di Xtreme Hardware. Abbiamo fatto una panoramica completa di questo sistema operativo, però molto interessante e anche una panoramica sempre del QTS4.1 relativa alle funzioni dell'HS251. possiamo trovare anche in fondo una pagina delle caratteristiche hardware del prodotto e di tutti i servizi che possiamo utilizzare, delle varie applicazioni presenti e le nuove applicazioni che sono state introdotte con la nuova versione del sistema operativo. Mettiamo dunque da parte le guide e andiamo a vedere cosa troviamo in questa scatola di cartone presente all'interno della confezione. Troviamo dunque all'interno le viti per il fissaggio degli hard disk da utilizzare con il vostro NAS. Un piccolo manuale cartaceo, un quick start chiamato getting started appunto in formato flyer apribile con le varie funzioni. Un altro manuale veloce che ci aiuta all'installazione dei dischi per utilizzare il nostro NAS. Poi abbiamo ovviamente l'alimentatore di corrente con la relativa presa, la presa asciuco e due cavi, non uno ma due cavi di rete RJ45 che per i più tanti di voi fanno già capire una delle sostanziali differenze che troviamo in questo prodotto rispetto all'HS-210. Bene, andiamo dunque a vedere com'è questo prodotto a livello estetico. Bene, come vi dicevo è molto, cioè non è molto simile, in realtà è identico all'HS-210 come aspetto estetico, quindi parliamo di un NAS bellissimo. sicuramente come dicevo già nell'unboxing dell'HS-210 il più bel NAS che abbiamo recensito, ovviamente non abbiamo ventole, essendo appunto Silent NAS completamente passivo, abbiamo un top in alluminio satinato con il logo dell'azienda, la parte frontale è in plastica nera lucida, troviamo la scritta Silent NAS, i bordi non presentano nessuna scritta e nessun foro, niente, tutto ovviamente nero lucido, la parte frontale come nell'HS-210 si apre e lascia spazio ai due vani per i dischi che andremo a vedere dopo e sul retro abbiamo invece le differenze sostanziali che ci fanno capire perché QNAP ha introdotto queste novità hardware e come mai il prezzo è decisamente superiore, praticamente il doppio rispetto a quello dell'HS-210. avevamo detto dell'HS-210 che se avesse avuto una porta HDMI sarebbe stato perfetto e fantastico, bene l'HS-251 è perfetto e fantastico, infatti troviamo sul retro non solo le due porte USB3 e USB2 presenti sull'HS-210 ma troviamo anche una porta HDMI che in realtà poi sono due ma una è riservata, c'è scritto Reserved probabilmente per l'assistenza e ben due porte LAN RG45 da utilizzare tramite il protocollo Link Aggregation che è utile e permette di utilizzare questo prodotto anche nelle aziende di media dimensione, non soltanto a livello domestico, infatti grazie al Link Aggregation possiamo raddoppiare la banda e quindi uploadare e downloadare dal nostro NAS i dati da due client differenti senza dimezzare la banda. Abbiamo l'ingresso per la corrente con l'alimentatore appunto da 12V, il tasto di Reset e come poi vedrete all'interno se guarderete la recensione completa che trovate sul nostro sito xmhardware.com noterete che all'interno del prodotto c'è un altro tasto di Reset, anche quello però è nascosto e probabilmente è sempre in caso di malfunzionamenti ed assistenza. Abbiamo il tasto Power e come dicevo questa novità dell'HDMI e delle due porte LAN. perdiamo il lettore di schede che era presente invece nell'HS-210. Andiamo ad aprire il prodotto sul frontale se riesco a farlo vedere da dritto, ovviamente anche questo è magnetico quindi basta tirare e si apre con facilità. abbiamo i due tasti push con la maniglia sul bay completamente in alluminio, in questo caso io ho già inserito i due dischi per poi effettuare i test che troverete appunto nella recensione completa. il prodotto è esteticamente eccezionale, bellissimo, grazie alla porta HDMI sul retro è possibile finalmente utilizzarlo con la televisione, ha un pieno supporto full HD 1080p, possiamo dunque vedere i nostri film sulla televisione comodamente sul divano utilizzando questo prodotto come oggetto anche di arredamento e essendo completamente silenzioso sicuramente ci farà godere a pieno l'audio dei nostri film. Detto questo vi rimando alla recensione che trovate qua sotto nella descrizione, vi consiglio, vi chiedo di lasciare qualche commento al video riguardante appunto il video stesso, il prodotto, vi rimando alla nostra pagina xrimardor.com, iscrivetevi, iscrivetevi al nostro canale di youtube dove potrete anche partecipare ai numerosi contest che di mese in mese la redazione attiva con svariati premi tra cui anche dei NAS, detto questo un saluto da Angelo e dalla redazione di Xtreme Hardware, ciao a tutti!